Come sta andando Andrì? Non lo so se lo conosco. Buongiorno, sono qui a Nathos Avenue in Prance, ho alcuni amici miei, c'è Guglielmo Tell, c'è Domenico, c'è Bruno che ruba l'alloro, c'è Mario il pescatore, è arrivato Upancione qua a Lucio e c'è Gustavo che rompe sempre le palle la mattina alla sera. Invio questo video al caro amico mio Carmelo Danzi a Madrid, caro Carmelo ti salutiamo e ti pensiamo sempre. Ciao, a presto.